Ma quindi bellissimi, finalmente Brawl Stars funziona perché ci sono state manutenzioni, problemi di server, esploso tutto, non lo so, io nel dubbio vi chiedo di lasciare un like, siamo tornati oggi per provare i nuovi star drop classificati, voglio vedere se riesco a trovare il Dana Mike, il mio brawler preferito con una skinna clamorosa, 5000 like per altri video, iscrivetevi e campanella per rimanere aggiornati su tutto, lo sapete. Tra l'altro domani c'è il nuovo pass, lo devo shoppare al day one? Cioè devo svegliarmi la mattina per prenderlo subito e farvi uscire il video domani? Fatemelo sapere se lo shoppate codice Grax, in descrizione al Supercell Store avete il 10% di sconto, lo sapete, per i pass e così via. Andiamo a prendere vari gettoncini, ci eravamo fermati alla bronzo 1 con 480 punti, io direi che la andiamo a giocare, evento scelto, cerchiamo di sbloccare questi star drop, da random funziona, te prego. Sto troppo in hype per questa modalità ma avete detto che danno un sacco di cose, pin sicuramente meglio rispetto ai bling. Vedete prima ho beccato due player fortissimi, ha proposto Leon, ma come Leon, bello mio, mi fido di lui, Leon al 9 eh, andrò sicuramente in giro molto silente a killare gli avversari. Ah, cominciano ad esserci dei player importanti, vabbè la prima season, hype, hype, mettiamo la copia, c'è Shelly, c'è Fungus, è morta la mia copia, perché me l'avete killata? Maledetti, non si fanno queste cose, io però non c'ho l'hypercharge di Leon, non c'ho niente, boh, ha senso, vabbè Leon intanto fa danni, concentrati sembra forse la prima partita seria, tra l'altro la partita dello scavallo, quindi ci può anche stare che ce la metta un pochino complicata, danni, mamma mia il fang che ha combinato, danni su Shelly, gol, pazzesco, non so come è entrata, subito la copia, recupera un'altra ulti Grax per magari sparare dalla distanza, ok, qui ci hanno fatto male, e Fungus tra l'altro può portarci dall'altra parte, non sparare bello mio, oh, ho preso, fai gli danni, non c'avevo i colpi, ma che so, Buffon, sparata del Grax, il tiro, la chiude, no, non la chiude, partita tesa, ritorna Grax veloce, preparatevi perché, ma silenziato, mi sa, non posso sparare, ciao, senza gol, dicevo preparatevi perché ora andiamo a prendere lo star droppino, ma questa modalità posso portarla anche con altri content creator, premio per la promozione, ma questa cosa è bellissima, certo che lo attiviamo, 605 punti, altra roba per le missioni, eccetera, primo star drop, lo sappiamo benissimo che Grax è il GX, fortunato è il GX favorito al primo, dammi Dynamike, facciamoli impazzire tutti, Piper ma riposa, quella che mi avete detto che era una grandissima skin, bene, meglio di un pin, ok, ma io voglio andare avanti, riesco a prendere un altro? Assolutamente sì, me sto a perdere, sta là sopra il bottoncino, bisogna arrivare a mille, sono quattro vittorie, perché no? E bisogna farle di fila, tanto è monomatch, quindi i video mi piacciono lunghi, lo so bene, KO, sapete che metto qua? Io forse faccio un po' di freestyle Edgar, Leon, Edgar e Goku che si mette, o il Dynamike, Fang pure, tutti potenziati, tutti con gli overdrive all'undici, io sono il più scarso di tutti, Bull, Fungus, Bull mi fa paura, e Charlie, Charlie non mi ricordo se c'è qualche respingitore strano, io potrei andare subito di gadget per portare il team in vantaggio, secondo me potrebbe avere senso, però se loro rimangono stretti, mi sa tanto che la perderemo male, il Bull è veramente importante come pick, te prego Fang carica la ulti, io devo andare a fare delle kill solitarie, ma Bull gioca molto bene amici, provo il jump lì, ah, lui mi silenzia, è vero che il nostro Leon è andato giù, si è sciolto come un ghiacciolo, proviamo, eh, la classificata è così, se perdi vai sotto, se vinci sali, Fang si è fermato, e dai, dai, non mi fa ad odiare i random, gentilmente, volevo rigiampare, intanto ho tolto Charlie, siete due long, il Bull lo potete togliere, 1v1, Leon contro Fungus, hypercharge, 7 di vita, io mi dissocio, meno 10, a coppe basse non si perde praticamente niente, poi sicuramente a diamante è più 100, meno 100, serve il team, comunque KO, mappa abbastanza aperta, io qui potrei andare con Piper, Broder dalla distanza, sì, dai, Spike, vado con Piper, con il colpo quello lì che ho messo tra l'altro nella Brawl Stars Championship, mappa che conosciamo bene, KO, Edgar's quick gold, c'ho paura solo di Edgar, non ho il colpo respingitore, purtroppo, male, forse in random è meglio mettere quello, perché tanti si mettono l'Edgar, eccolo lì, colpetto proprio per l'Edgar, non l'ho preso, occhio al Colt, eh, ci siamo fatti fregare, mi so fatto fregare, non mi aspettavo il jump è così difficile, vai Spike che resisti, il Colt era andato giù, volevo killare il Colt, bravissima Bella, scusatemi, poi dopo torno, mi faccio, ovviamente, per donare i grandi kill di Spike, ecco lì potrebbe andare un po' meglio, peccato che Squeak non è andato giù, era un 1v1 con Edgar, vabbè, primo match, t'ha jumpato, ce sta, è giusto, Edgar c'è un grande valore, fosse stata così la partita di prima, uh, ma qui c'è il moltiplicatore della distruzione, bello, e allora fermi, devo essere preciso contro l'Edgar, killato, 2v1, vai con lo Squeak, giustamente con un modificatore del genere mettere Edgar diventa discretamente complesso, dov'è lo Squeak, eccolo, colpetto preso, colpetto, dai è andato giù su, bastano i colpetti di Spike, benissimo, ora però ho finito i colpi curvi, mi sa che ho sbagliato utilizzare l'ultimo gadget, eravamo 2v1, non serviva, andiamo qua sempre sull'Edgar, però certo io adesso c'ho il jump, pure quello è molto comodo, l'hypercharge, vorrei, bravissimi, più bravi di me, nulla da dire, occhio allo Squeak, cerca Grax di gestirlo, va giù il Colt, con un minimo di concentrazione, soprattutto senza la kill iniziale del Grax, ce la siamo portati a casa, bene, quindi questa partita ci va a dare 125 punti, 720, devo per forza andare avanti coi danni, un attimo che metto il silenzioso e voglio lo star drop, mi serve Danamaic, oh di nuovo, e modificatori, qual è, quello, ah tutti i brawler c'hanno la stessa salute, cavolo, potrei andare di Spike, con un botto di salute, c'ha senso? Poi mi immagino quelli che insomma so forti, guardano i video e dicono, Grax, ma che stai combinando, non si gioca così, stai fai danni, consigliatemi, vede il box dei commenti, lo sapete, sono qui per divertirmi, farvi divertire e per migliorare, c'ho il Culpo Curvy, altro Spike pure per l'avversario, lo Squeak ci zona abbastanza, ma se Piper gioca bene, io c'ho 6.000 di vita con Spike, ma voglio andare giù, guarda che botta lì, subito ulti, non una bellissima ulti, Energetic ti prego non mi morire, almeno tu, buono quel colpo, buonissimo quel colpo, non so se ho sbagliato Gadget, mi esate sì, mi esate sì, forse era meglio il Cactus, devo mettergli un po' di Pressing, sinceramente la scelta di andare a mettere l'Energetic non l'ho molto capita, quelle sono delle belle botte, ferma tutto, c'ho la ulti che posso utilizzare lì per fermare l'Edgar, eh, ti debo dire, eh, mi ero totalmente dimenticato di Edgar, ma proprio total lì amici, buono quel jump, forse era meglio quasi tenerlo per la parte successiva, ma com'è fatta a mettere Energetic, amico mio, l'ha vinta Edgar con un jump, troppo forte in K-O Edgar, se la gestisce come vuole, io vado di ulti, e quello la... Ne abbiamo tolti due, eh, c'è rimasto solo Edgar, te prego Energetic, almeno tu fai quello che devi fare, usa il tuo brawler come esca, bene, se torna avanti, posso utilizzare di nuovo la ulti lì, doppia kill, in qualche modo, e c'è un raggio rallentante da quella parte, e non so per quale motivo, però penso che sia abbastanza win, perché tanto l'Edgar non è un problema. Non mi sento di averla giocata male, tranne per il primo push, ho fatto 34.000 danni, Piper ha giocato molto bene, ce ne mancano due, vai quelle missioni che ci servono per finire il pass. Food Brawl, di nuovo quella di prima, con brawler alla stessa vita. Ah no, mi sono sbagliato, ecco perché mi chiedevano di mettere Frank, perché giustamente tutti i brawler hanno la stessa salute dell'alleato, e allora lo posso fare. Se metto Frank? No, no, non mi dico che Piper c'ha. Ah, si è voluto mettere pure Bull. Colette e Buzz, noi abbiamo 12.000 di vita ciascuno. interessante, e il mio Frank non l'utilizzo da un botto. Ragazzi ve lo dico, forse vado controcorrente, ma a me non il moltiplicatore, il modificatore non dispiace. Certo, Colette è un ottimo pick, forse anche più di Piper, molto più di Piper, sicuramente più di Piper. E non ho capito infatti il motivo per cui Piper stava chiusa lì a sinistra. Il Bull anche, magari meglio di Frank, potrebbe essere jump importante. Io qui potrei andare avanti e stunnarlo. E Piper. No, Piper. Uh, che gol è entrato di Sandy. Mamma mia. Certo, anche l'Edgar da 12.000 ce ne vuole per buttarlo giù, eh. Il Bull fa comunque male, lui sta caricando la ulti. Danni. Bull è importantissimo. Te prego, Piper, fai qualcosa. Eh, GG, bravi loro. Piano piano ci arriviamo, meno 10, non è un problema, siamo a coppe basse. Next. Devo capire subito il modificatore e andare a mettere il brawler giusto. Qui non ci sono modificatori, rapina, possiamo mettere un'Ambra. Posso mettere Colt, Shelly, non ne sono sicuro. Shelly, Colt e a sto punto in maniera cattivissima, Ambra su cassa, spacchiamo tutto. Edgar, Maxine e Brock. Comunque è bellissimo l'emblema sopra, fantastico. Subito gadget. Dovrò ristabilire tutti quanti i gadget, come utilizzarli, come metterli. Tanti sono quelli vecchi, ma magari li hanno bilanciati, modificati. Questa è un'ottima ultima. Chi l'ha? Dovrò ma siamo su cassa. Vai. L'Edgar, diciamo che non è che se la passa benissimo qui. Se riesco a ricaricare un po' di olio, l'Edgar non se la jamperà praticamente mai. E vado a fare una super ulti. Se l'è jumpata ma non è un problema. Super ulti in the mid, bruciatura e il broccolo da togliere velocemente. Maxine vuole pusharmi danni sulla cassa. Ci metto un po' di gadget. E sì, chiusa. Ce ne manca una. Devo vincere pure una battaglia in rapina. Star droppino finale. Dai, troviamo il Danamaic. Mi sto divertendo. Con i random mi sto divertendo. L'aspettavamo da tanto. Io non so che cosa posso fare con questa modalità in live, ragazzi. È bellissima. Miko, ricercati. Spike. Danamaic e vado, credo, con un thrower. Oppure potrei andare anche con qualcosa che difende bene da vicino. Leon, no. Ragazzi, per sbloccare Danamaic vado contro i consigli. Devo mettere un Danamaic. Vincendo con Danamaic ci darà Danamaic. Danamaic, Leon. Un problemino è Hank. Difficile da buttare giù. Non ho visto il modificatore. Non l'ho visto. Però c'ho il super stun bombozzo che mi piace. Eccolo lì, Leon. Jumpa il miko. Subito il primo danno. Ok, è entrato. Ma miko, miko non farmato, eh. È ricercati. Molto attenti, ragazzi. Recuperate vita. Miko può fuggire. Non è, diciamo, un brawler facile da buttare giù. Occhio al Pearl. Ha fatto malissimo. Ok, miko. Purtroppo l'abbiamo salutato. Te prego, recupera life, amico mio. Spike. Recupera. 3-3. Partita importante. Finalmente le partite sono... No, 280. No, però. Non ci posso credere. 7-4. Sta lì, Leon. Danamike sta zonando benissimo. Devo provare a tirare un bombolone da quella parte. Ci serviva qualcuno di più long. Spike non sta facendo nulla, ragazzi. Niente. Sta... Oh, grande miko. Fortuna lui. Ma io credo che Pearl faccia un po' quello che vuole. Te prego, non mi morire. Spike almeno duce. Leon non ancora invisibile. Il Danamike... L'ho killato. 8-12. Bombolone per... Sbagliato il bombolone. Miko prova a fargli male. Servirà fare un'altra partita. Il miko fa il danno... Dalla distanza. Eh, però se fa killa lì... Miko e ricercati. Totalmente aperto. Cioè, non so che si aspettava di beccare tutti quanti i trower. Nessun modificatore. E allora posso spingere con Brawler dalla distanza. Energetic 11 buono. Griff. Sandy, dato che è molto aperta come mappa, ci metto la ulti nel mid e rallento tutti. Edgar, Leon e Ems. Pure Ems. Potrò mettere pure Ems. C'avete assolutamente ragione. C'è un GX. C'è un bello mio. Grande. Ems scioglierà tutti. A coppe basse Ems è stata sempre super forte. Un po' come il Gran Cavaliere. Eh, non credo di fermarlo mai. Pizze. Pizze enormi. Serve il team. Non finirò mai di dirlo. Vi siete fatti sciogliere da Ems. Destroyer. Ok, l'abbiamo tolto uno. L'Edgar tiene ovviamente la palla in un lato scomodo. L'ho stunnato. Miracolato Grax. Buona la ulti di Griff. Possiamo spingere in avanti. Bisogna pushare Ems nel modo giusto perché se push e poi torno indietro mi prendo 40.000 di danni. Ok, l'Edgar buono. Ulti per noi. Ems dovrebbe andare giù semplicemente con i danni. Rimane... Un danno. Ti prego. Corri. Destroierci le ulti. Sì. Totalmente Grax inserito per depistare il tutto. L'importante è caricare la ulti. Se riesco a caricare la ulti cambia totali la partita. Eh vabbè. Eh vabbè. Io non c'ho neanche credo il gadget. Non avrei comunque fatto in tempo perché c'era Edgar e gli altri dovevano rinascere. GG per la partita. No! Il drop allo scavallo. No! I Filz. Arraffa Gemme. Volevate un video corposo? Di ladder. Grax ve lo gioca. Miniere preziose. Eh... Colt. Ok. Potrei riandare di nuovo Coambra. Ma siamo a Cop e Bass. Ma come Griff? Ma come Griff! Non so se è meta ma non credo. 8-bit. Buonissimo. È vero. Ci sta il brawler quello con più vita. Abbiamo fatto un danno. Non l'abbiamo sfruttato. Abbiamo... 7.300 con lo shield. Tutti quanti a 6.480. Concentrati! Concentrati! Manuel l'ho tolto. Devo mettere un brawler che può fare male in maniera abbastanza easy. Questo lo fermo. Danni su Iris. Colpi sull'8-bit. Ritorno un attimo indietro. Griff c'è 4 power up. Io non ci credo mai. Fortuna che l'ho tolto. Tengo le gemme io ma non penso di essere quello con le gemme. Kill mi sono mosso molto bene. Ulti di Colt. Per fortuna Colt che mi dà la mano. L'Edgar scoppiato. Recupera la vita. Recupera i colpi. Abbiamo 7 gemme. Forse questa è la partita che ci dà lo star droppino. Grande Colt. Fatemi prendere... No Colt. Do stai inna con le gemme. Colt. È vero che ce n'è una sola. Rimango sotto così non mi faccio schiantare se devo tornare indietro. L'Edgar scoppiato. Per fortuna ho messo Ems. Per fortuna Ems brawler rottissima a coppe basse perché le persone non lo sanno gestire. Colt non mi rubare le gemme. Grazie. L'Edgar noeres un problema. Quel tipo di Edgar poi si fa ammazzata al trenino. Danni su Iris. Ok. Giusto? Ci siamo? Preciso. Ragazzi video push divertentissimo. Abbiamo fatto i primi contenuti in solo. Poi magari lo faremo con Zan, Yoshi, Live. Preparatevi. Bronzo 3 per la prima volta. Dopo ci dovrebbe essere uno star drop epico. Ma comunque è l'inizio abbastanza easy. 500 gettoni. Torno indietro. Non ho vinto con Dynamike. Spero comunque di beccare Dynamike. Wow non ci credo. Mi sento male. Ne valsa assolutamente la pena. Aspettare. Ragazzi 100.000 volte superiore questa modalità rispetto alla vecchia Power League. E qui 90 minuti di applausi al team di Bro Stars. La proveremo per bene. Cercheremo di salire. Andremo avanti. Prenderò altre skin. Risparmieremo una marea di bling. Non ho parole. Vi chiedo solo i like. Iscrivetevi e campanella è totalmente gratis. Codice Grax ovunque. Un bacio a Grax. Super sestore per il pass. Lo sapete. Ciao belli. Ciao ciao.